Omenia, porta del lago, sta entrando nella fase finalmente esecutiva il progetto per il restyling dei pontili ai giardini pubblici che prevede anche la costruzione di due nuove strutture. Il progetto era stato voluto dalla giunta Marchioni, in particolare dagli assessori Stefano Strade e Mattia Corbetta ed è stato confermato anche dalla nuova amministrazione. Ora, dopo la solita, lunga e quasi interminabile parte burocratica, si è passati all'operatività. Il progetto complensivo del costo di 180 mila euro è stato curato dall'architetto Poli. In questi giorni, davanti al ristorante Risuma, sono state posizionate le fondazioni per il nuovo pontile, che sarà lungo 16 metri e servirà per accogliere otto imbargazioni dei privati che vogliono fermarsi per qualche ora a Omenia. Il pontile sarà installato nelle prossime settimane, sarà un prefabbricato e dentro la fine di giugno questo primo lotto di interventi sarà concluso. Successivamente è prevista la ristrutturazione e il restyling dell'attuale attracco della navigazione pubblica, dove le imbargazioni della navigazione fanno salire e scendere i turisti e la realizzazione di un terzo pontile per i battellotti. L'amministrazione ha anche commissionato un progetto per l'ampliamento del porticciolo di Bagnella, dove sono previsti una ventina di posti barca in più rispetto alla situazione attuale.